Centrodestra, diciamo pure la destra italiana in questa partita della crisi, purtroppo, dico purtroppo perché non è un bene per la democrazia e soprattutto per l'alternanza, sta giocando un ruolo assolutamente di rimessa. Non hanno un'altra strategia se non quella di chiedere elezioni, elezioni, o meglio, di chiedere voto, voto senza volere le elezioni in realtà, perché sanno che in queste condizioni sarà molto difficile arrivarci. Non c'è un altro schema di gioco, né per Salvini né per Lameloni, c'è per Berlusconi, viceversa, perché Berlusconi in questa fase di sovranismo spinto, in una destra radicale come quella che abbiamo conosciuto in questi anni, si può ritagliare, di fatto se lo è ritagliato, un ruolo da moderato, sembra De Gaulle, sembra veramente un Winston Churchill del terzo millennio ed è un paradosso per uno come lui. E lui quindi può essere disponibile o comunque utilizzabile per immaginare maggioranze di salute pubblica. Ed è il tentativo che in qualche modo anche una parte di Forza Italia, quella che diciamo fa capo a Gianni Letta, in questo momento starebbe tentando di realizzare, cercando cioè di portare Berlusconi dalla parte del governo di salute pubblica. Questo naturalmente mette in crisi gli altri due alleati, Salvini e Lameloni, che infatti hanno introdotto una subordinata. Domenica, a sorpresa, senza che nessuno capisse il perché, Salvini ha buttato là la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. Un'ipotesi piuttosto avventurosa, visto che Berlusconi è un condannato in via definitiva, che ha scontato anche una pena per quattro anni, per un reato molto grave, quindi il Quirinale non lo avrà mai. Ma perché lo hanno fatto? Esattamente per questo, per fargli credere che se lui resta legato alla destra radicale che in Italia in questo momento ha la maggioranza, ci può essere anche la possibilità che se vincono le elezioni gli danno il Quirinale. È un'ipotesi totalmente irrealistica che serve, ripeto, soltanto a togliere Berlusconi dal tavolo delle larghe intese. Se ci riescano non lo so, perché Berlusconi è un altro che può cambiare terreno di gioco da un momento all'altro. Ma cosa potrebbe dire Berlusconi che possa attirare dalla sua parte o dalla parte del suo piano il PD o i 5 Stelle o parte di loro? Poco, poco nel senso che se l'operazione Berlusconi, l'operazione Governo di Salute Pubblica con Forza Italia o un pezzo di Forza Italia dentro andasse in porto o si profilasse all'orizzonte, per contro, poiché la politica è geometria, si produrrebbe un problema gigantesco, non tanto nel PD, perché secondo me il PD è in condizioni di debolezza e quindi potrebbe persino accettare Berlusconi in maggioranza, quanto piuttosto per il Movimento 5 Stelle, che con Berlusconi ha un problema gigantesco, come si vide già nel 2018 durante le consultazioni, ma come hanno ribadito in questi ultimi giorni, di Battista per primo, ma poi anche di Maio, con tutti, ma non con Berlusconi. Tuttavia, se non c'è una soluzione alla crisi e quella dovesse essere l'unica ipotesi in campo, beh, anche di questo bisognerebbe ragionare. Quindi, ripeto, siamo nella fluidità trasformistica italiana della peggior specie. Allora, sta arrivando... Il guaio è che capita tutto in una crisi drammatica. I nostri ospiti restano...